Ciao da Silvia! Se state pensando di acquistare un nuovo paio di auricolari Bluetooth, allora questo video potrebbe fare al caso vostro. Oggi infatti vi parleremo di un prodotto della storica azienda tedesca Sennheiser, le Momentum True Wireless 3. Con la nuova tecnologia True Response il suono sembra reale. Grazie al codec APTX Adaptive il suono ha un'alta risoluzione, riuscirete a percepire ogni minimo dettaglio. Inoltre sarà possibile personalizzare la propria esperienza di ascolto tramite l'app dedicata disponibile sia per Android che per iOS. Sull'app potrete decidere tra diverse impostazioni predefinite oppure impostare gli auricolari a vostro piacere grazie alla funzione di equalizzazione intuitiva. Con la cancellazione del rumore attiva niente e nessuno potrà più disturbarti. Se attivata la cancellazione del rumore si adatta automaticamente in base a ciò che vi circonda. Tutto questo grazie ai due microfoni presenti su ogni auricolare che percepiscono il rumore ambientale. Con questi auricolari sarà possibile seguire ogni vostra passione e attività. Infatti si possono adattare perfettamente all'orecchio grazie alla vasta gamma di adattatori e alette in silicone incluse nella confezione. Inoltre hanno una certificazione IPX4 per la resistenza alla pioggia e al sudore in modo da poter essere con voi durante i vostri allenamenti anche nel maltempo. Il design degli auricolari è molto moderno principalmente in colore nero opaco. L'occhio però non può non cadere sulla custodia di ricarica rivestita in tessuto grigio. Un vero oggetto di design molto raffinato ed elegante. La custodia non è solo bella ma vi garantirà un'autonomia totale di ben 28 ore. Se siete interessati agli auricolari Momentum True Wireless 3 li potete trovare su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo mi piace e iscrivendovi al nostro canale youtube. Se vi va lasciate anche un commento. Ciao e al prossimo video!